Lo snack è l'anno tagliato. Qua va a finire che prima di partire passa all'hostess e fa la colletta per la benzina. Ma se di gestione manca i dati al personale, si parla di 2.000 superi, ma attenzione andiamoci più. Qualche tempo fa un papà, un amico mio, insomma, era pilota, volò su Madrid e lo licenziarono. E lo lasciai in Spagna. Allora il ritorno stava arrabbiatissimo. Non tanto fu licenziamento, ma un ritorno in treno che ha diviso i piloti è stata una mortificazione esagerata. Allora